Ragazzi, l'attaccante alla Florentina non è che mi fosse piaciuto fino al momento del gol, però ha fatto un gol allucinante, cioè come Montella non mi aspettavo più il tiro in quel momento, invece l'ha alzata anche molto bene, è imparabile quando ti parte un tiro del genere, Skriniar ha sottovalutato il giocatore se non mi viene il nome, ma dato che sfottano tanto d'elite, due errori di due difensori, il primo errore è stato di Godin appena entrato e l'altro di Skriniar, comunque comunque comunque, adesso ripeto la classifica conta fino a un certo punto, anche perché noi abbiamo una trasferta difficile a Genova, quindi potrebbe essere che torniamo sotto, non mercoledì perché l'inter gioco domenica, però prossima settimana, quindi insomma, è così, questo campionato sarà così fino a marzo almeno, che sarà il breve marzo quando torneranno le coppe europee ovviamente, io ripeto ragazzi, il 3-5-2 qui in Italia è un sistema di gioco che va bene con, che poi ragazzi, inoltre gli interisti si incassano quando magari io o altri diciamo che l'Inter usa catenaccio contro piede perché è così, ragazzi, è così, è giocato un pochino quando l'altra squadra va sul baricentro perché c'è questo il modo di giocare di Conte, con noi faceva più gioco perché aveva tre centrocampisti, la centrocampo dal secondo anno in poi, soprattutto con Vidal, Pirlo e Pogba, che ragazzi, non c'è veramente paragone con i tre centrocampisti che ha l'Inter, a parte Vecino e Borcavalero, anche qualora avesse Barella e Sensi, sono tre centrocampisti buoni insieme a Brozovic, ma sicuramente non a livello di Vidal, Pirlo e Pogba, questo poco ma sicuro. Comunque, questo dimostra perché in Italia te la puoi giocare per il campionato con il 3-5-2 facendo anche attendismo perché in Italia, ragazzi, è così, in Italia alla fine ha ragione a Fiorentina, però di fatto questo ragionamento ce l'hanno tutte le squadre medio-piccole, cioè cerchiamo di stare in partita anche sotto di un gol fino all'ultimo e poi cerchiamo di giocarcela negli ultimi minuti. Nelle altre realtà non è così, nelle altre realtà ci si sbilancia, insomma si gioca la partita fino all'ultimo, non si fanno calcoli, invece in Italia purtroppo è diventato non solo tatticismo, che ci può anche stare, ma troppi calcoli, troppe prevenzioni, più che altro si cerca di prevenire quello che farà l'avversario piuttosto che magari imporre il proprio gioco ed è per questo che poi in Europa le italiane la maggior parte, scusate, la maggior parte delle volte fanno brutte figure negli ultimi anni, al di là della Juventus che comunque anche la Juventus quando ha beccato squadre forti o squadre comunque collaudate con un'identità di gioco ha fatto comunque brutte figure. Comunque, comunque, ragazzi, nella Fiorentina c'è da dire che ci sono dei giocatori pompati o sopravvalutati, giocatori molto ignoranti, devo essere sincero che veramente Lirola, ad esempio, che l'ho tra virgolette scoperto io, chi mi segue da tanto sa che Lirola era il mio pallino quando guardavo la primavera della Juventus, se dicevo questo qui per me farà strada o comunque giocherà in Serie A, tre nomi avevo fatto, Castanos che ho sbagliato, Audero e Lirola, Audero e Lirola giocano titolari nelle proprie squadre, quindi qualcosina ci capisco. Comunque, a parte questo, io penso che ci sono tanti giocatori pompati, Castrovilli, il commentatore di Sky ha detto che è stato uno dei migliori in campo, ragazzi, se noi guardiamo un giocatore e consigliamo un giocatore migliore in campo semplicemente perché fa qualche dribbling, io vi porto giocatori di seconda categoria che fanno i dribbling, gli stessi dribbling di questi giocatori qui. Il problema è che Castrovilli, anche oggi, io l'ho visto poche volte, però quelle poche volte, a parte contro il Napoli se non sbaglio, ha giocato per me male, nel senso che sbaglia tempi di gioco, sbaglia passaggi e molte volte fa anche dei passaggi sanguinosi, perde palloni che possono essere veramente sanguinosi per la propria squadra, però un po' come quando analizzo le partite da Juventus, ad esempio oggi dico, e ho detto Danilo ha giocato male, eh ma Danilo di qua, Danilo di là, ha fatto tre passaggi sanguinosi al centrocampo, ok, e qualora fosse stato Cansello l'avrebbero massacrato, ma soprattutto qualora avessimo preso gol quest'anno, questa partita, poi l'avrebbero massacrato. Io giudico, al di là del gol o non gol, se poi un giocatore mi fa una cazzata, quella cazzata va rimarcata comunque, ok, pesa sul voto, se poi sono stati bravi i compagni a rimediare è un'altra cosa, però comunque è un errore grave. Poi Chiesa è un altro giocatore che poi, Chiesa non mi piace, lo sapete bene, però anche qua Montella, Montella ha messo, adesso non so come gioca di solito, però mettere Chiesa e Boateng come due punte è un errore, cioè Chiesa non è una seconda, nemmeno una seconda punta, Boateng sì, infatti poi non è un caso secondo me se il gol è arrivato con Chiesa fuori. Chiesa è più un esterno, però di fatto, ragazzi, lì davanti, scusate, Montella per me, ripeto, è un allenatore non da serie A, cioè lui cavalca il proprio cognome, che ha fatto grandi cose come giocatore, ma alla fine come allenatore per me è un allenatore mediocre. Questo lo dico da sempre, a inizio anno non lo dicevo, poi ha fatto qualche buona partita a Fiorentina, ha fatto qualche vittoria, tutti a dirmi, hai visto Montella, tu che dicevi che era sopravvalutato, adesso siamo quasi a metà stagione, cioè dov'è la Fiorentina, capite? Quindi per me è sopravvalutatissimo che poi il mercato da Fiorentina sia stato secondo me inadeguato, perché mancano parecchi giocatori a questa rosa, anche lì davanti una prima punta vera e di spessore, non puoi affidarti a un 2000 al centrocampo, anche Benassi, questo Benassi no, come Baselli. Erano stati identificati come futuri, cacchio non so, Pirlo, non lo so, Gattuso, vabbè, ok. Poi alla fine poca roba, come l'altro Pellegri del Genoa, tutti a dire no, dovevamo prenderlo noi, parlo degli Juventini, al Monaco, più infortuni che altro, e sta facendo male. Purtroppo anche lo stesso Castrovilli viene pompato, adesso io non dico che ha un bidone assolutamente, però per i giovani bisogna andare calmi, ragazzi, con i giovani bisogna andare calmi, perché Castrovilli è un giocatore che ha ottime potenzialità, ma deve migliorare di testa, di intelligenza, cosa che adesso gli manca per fare il salto di qualità vero. E poi anche sopportare certe pressioni, questo poco mi assicuro, ma un po' su tutti i giocatori, un po', sì, un po' su tutti i giocatori pesa questa cosa, secondo me. Per quanto riguarda l'Inter, Lukaku si è mangiato un altro gol, ma dicono che, perché gioca tutte le partite, tutti i minuti, grazie al cazzo che ha 10 gol, ok, in campionato, dicono che è un fenomeno che vale 80 milioni, per me no, assolutamente, per me è poco più superiore di Mandzukic, soprattutto per l'età e basta, e per qualche tiro da fuori, se Mandzukic vale, non so, 15-20 milioni, per me Lukaku, poi, oh, il prezzo lo fa il mercato, quindi se lo United ha chiesto quella cifra e l'Inter l'ha pagata, poi vedremo in futuro chi avrà avuto ragione, però per me Lukaku vale sui 40-50 milioni massimo, non di sicuro 65 più 15 di bonus, sulle robe varie, vabbè, e l'altro Martinez, che va bene, sta giocando pure lui tutte, ed è un po' stanco, e niente, l'arbitraggio non mi è piaciuto per niente, perché comunque, cioè, ci sono stati dei vantaggi che poteva dare, da una da un'altra parte fischiava il fallo, vabbè, e poi, verso la fine della partita, ha fischiato un fallo di un giocatore di Milenkovic, se non sbaglio, su Skriner, che l'ha appoggiato sulle spalle, Skriner ha fatto una simulazione pazzesca, poi si dice di Chiesa, giustamente, perché anche Chiesa è simulatore, però Skriner non è che abbia fatto diversamente, noi abbiamo Quadrado, lo so, lo so, infatti io critico Quadrado quando fa il coglione, comunque, niente, il migliore in campo, tra l'altro, è Andanovic, perché ha fatto due miracoli allucinanti, anche se comunque, sulle uscite, a me continuano a non piacere, e chi lo considera il miglior portiere d'Italia, della Serie A, per me sbaglia, per me, ripeto, il portiere migliore della Serie A è Sirigu, per parate, posizionamento, tra i pali, e uscite, è troppo sottovalutato quel portiere, secondo me, e niente, poi, trasciando da Albert, che il peggiore Molinaro era meglio, sui cross, vabbè, e niente, vabbè, siamo primi a pari punti con l'Inter, ma ripeto, cambia poco, vedremo come si andrà la pausa, poi, vabbè, ragazzi, ditemi la vostra, ci vediamo nel prossimo video, sempre comunque fino a fine Forza Ventus, domani ci sono, ovviamente, i sorteggi, buonanotte a tutti.